ciao seconda questa perché è appena andata male oggi è il 21 settembre 2020 e tu hai 14 settimane e 4 giorni e sei sempre là dentro sempre là dentro il 18 scorsa settimana abbiamo fatto i risultati del dna fetale ed è tutto a posto per festeggiare io ho comprato questo bellissimo bellissimo verde speranza anche se non si vede va bene e oggi la mamma ha fatto un altro esame ecografia va tutto bene per festeggiare ho comprato un altro rollozzo che vediamo la prossima volta come promesso la scorsa volta ti presento due persone che probabilmente già conosci ma le conosci in maniera diversa perché saranno più grandi rispetto sono più grandi di quelle che conosci tu almeno quando vedrai questo video che sono i tuoi fratelli maschio fratello maggiore la sorella maggiore tu conoscerai probabilmente un omone grande con la barba tra qualche anno quando conoscerà lui forse con la barba strato un metro 80 anche di più forse e andrà probabilmente all'università quando lo conoscerai tu invece adesso è un ragazzino di 14 anni ciao bravo ragazzino che fa le superiori e il tuo sorella maggiore quando la conoscerei tu sarà una ragazzina una bella bella ragazza che starà facendo le superiori si starà preparando per per l'università adesso invece è una bellissima ragazzina come superiore bellissima ragazzina di 12 anni adesso questo video si vedrà più tardi ci vediamo per la prossima volta per prossimo tra quanto prossima notizia in giro ciao